Oggi parliamo di una bellissima espressione che prende origine, pensate un po', dai cowboy, dai cowboy. E cos'è questa espressione? Questa espressione è... Howdy, howdy partner, howdy partner. Che cosa vuol dire howdy? Si sente molto nei film, per esempio a me piace un sacco il cartone Toy Story, perché ci sono cresciuto con Toy Story, e Woody, il cowboy di Toy Story, dice sempre howdy, howdy, or howdy partner, howdy vuol dire how do you do, cioè come stai in realtà, è l'abbreviazione, però è usato come saluto, capito? È come un po' quando gli americani dicono how you doing, e gli rispondono how you doing, cioè è un saluto, più che un modo per chiedere come sta l'altra persona. Attenzione, è usato in tutti i film con i cowboy, ma è un saluto tuttora usato nel Texas, ok? E quindi si usa ancora, come saluto, nello stato del Texas, in America. Quindi howdy. Attenzione, lo capiscono un po' tutti, perché è veramente famoso questo saluto. Howdy partner, howdy partner, howdy partner, howdy partner, howdy partner. Ma la vera domanda è, se con il taxi si dice tassisti, con il Texas si dice tessani? Howdy partner, howdy partner. Howdy partner, howdy partner, howdy partner. Grazie a tutti.